salve a tutti e ben trovati i demoni senza misura di dostoevsky oggi saranno diciamo filtrati attraverso il dostoevsky senza misura visto da citati e con il suo grandissimo aiuto e sotto lo sguardo amorevole della dostoevsky la moglie di dostoevsky perché dico demoni e non demoni allora intanto io vi dirò già che le mie pronunce per chi mi conosce è così lasciano sempre molto a desiderare questa volta però userò tutte e due i termini sia demoni che demoni vicendevolmente e volutamente non come come sbaglio vi spiego se la pronuncia dovesse essere quella cristiana legata all'etimo cristiano sarebbe assolutamente demoni perché c'è il richiamo proprio evangelico e non i demoni greci da daimon classico ma io li denominerò invece vicendevolmente e perché non tanto appunto per uno sbaglio ma perché io rivedo degli aspetti sia classici sia cristiani in questo fantastico romanzo allora in krillov vedo il pazzo di dio come viene detto figura risalente a diogene è detto il cane e quindi abbiamo già un personaggio saggio nella sua pazzia e quindi di radice classica e come un sovvertitore delle regole perché la verità in realtà il mondo non è pronto per accoglierla per vederla mentre i demoni cristiani sono malvagi sono corrotti non sono per nulla saggi sono intemperanti l'abominio e l'ignavia domina in loro ma il male non è mai scisso completamente dal bene chi conosce dostoieschi lo sa e questo è uno degli aspetti anche molto intriganti sempre dei suoi romanzi e quindi io ravviso anche in questo l'elemento diciamo manicheo il bene e il male consentitemi volutamente reso nella complessa e sfaccettata introspezione psicologica che ritroviamo in tutti i suoi romanzi e anche questo naturalmente non fa eccezione nella sua complessità se non fosse il mio scrittore prediletto non ve lo proporrei ma oggi verrà raccontato da me soprattutto attraverso di lei e sarà a mio avviso ancora più affascinante e spero anche leggibile mi auguro perché i demoni sono stati definiti illegibili illegibili comunque ostici e infatti devo ammettere anch'io che io l'ho riletto perché l'avevo già letto in gioventù ma devo dire che arrivati verso la metà del romanzo ci si chiede se sia valsa la pena di arrivare fino a lì o se si sia invece al contrario perso tempo lui furbetto ci strizza l'occhio e ci trascina in situazioni ironiche grottesche rocambolesche che ci intrigano quindi noi alla fine continuiamo a leggere ma non capiamo dove lui realtà più di tanto voglia andare a parare perché è molto attento ai dettagli e in qualche modo dopo un po' queste situazioni sempre esilaranti intelligenti intriganti ci fanno chiedere se non siamo stati raggirati per essere giunti magari alla 350esima pagina senza avere ancora colto quello che è il senso complessivo ma molti dettagli appunto stupendi stupendissimi ma il senso complessivo sfugge queste figure che pur nella loro complessità psicologica per l'ironia e a volte sono caricaturali o marionettistiche e ancora questi intrallazzi di salotto le beghe d'affari i matrimoni improbabili dove sbuca anche turgenev dietro al letterato karmazinov è un personaggio sicuramente senza ombra di dubbio caricaturale oppure troviamo diciamo i michilisti e il loro pensiero estremo e rivoluzionario che krillov ateo e mistico personifica e quindi si coglie un atteggiamento quasi civettuolo di civetteria diffusa che a seconda di come siete voi di carattere può divertire o al contrario infastidire o magari divertire infastidire insieme c'è sicuramente presente anche uno spirito di denuncia sociale uno spirito polemico politico che esce diciamo intonso intatto così come le riflessioni etiche sulla libertà ma quanto è consentito e quanto limitato dalle leggi diciamo dalle convenzioni e attraverso la parabola evangelica degli indemoniati riportata da luca dall'evangelista dostoievski ci presenta questa umanità perduta degli ossessi che hanno in qualche modo smarrito la nozione di bene e di male e questi ideali socialisti che vengono dalla francia provengono dalla francia penetrano nella russia zarista e e lo spauracchio della rivoluzione produce un profondo turbamento che colpisce quel mondo è piccolo medio borghese e abbiamo proprio una una sorta di scaramuccia tra questo mondo piccolo borghese da una parte disposto a irridere questi i valori tradizionali e questi stessi valori e non solo questo mondo piccolo borghese è disposto a irridere i valori ma anche a trarne un profitto o ancora nuove idee dostoievski di rimando combatte contro il vizio orrendo immorale raccapricciante lui stesso rappresenta proprio un gruppo di rivoluzionari di stampo socialista riprendendo furie soprattutto socialisti utopisti e emerge il dissenso la rivoluzione che cagioneranno poi anche quell'esperienza traumatica della deportazione in siberia che dostoievski vivrà proprio perché faceva parte di questo gruppo e di rivoluzionari quindi la satira politica è solo all'apparenza civettuola vedete bene attraverso la figura retorica ampollosa di stefan trovimovic speriamo di averlo pronunciato bene ma non so e di suo figlio si esprimono idee liberali che sono comunque fiacche senza reale convinzione sono astratte o ancora per barbara petrovna queste stesse idee sono solo una sorta di moda un capriccio un balocco e gli uomini si svalutano appaiono sterili proprio come dicevo prima un po delle marionette un po delle caricature poco consapevoli poco decisi poco energici e quindi adesso cominciamo a capire il perché dostoievski scrive i demoni ma e quindi qual è quel senso complessivo in qualche modo così almeno non ve lo chiederete alla trecentocinquantesima pagina e ma noi perché dovremo poi leggere se anche nessuno come lui sa sondare l'animo umano così tanto per profondità per introspezione psicologica leggendo ogni risvolto ogni dettaglio ogni cambiamento di umore proprio anche sul viso ci sono delle situazioni in cui c'è proprio questo capire sul viso dei suoi personaggi e anche devo dire lei ha la stessa identica attenzione pur non essendo una scrittrice ma una semplice stenografa però a capire le espressioni di lui del marito quindi in questo sono anche molto simili ogni cambiamento d'umore quindi e i personaggi quindi risultano essere mai mancanti mai abbozzati o raffazzonati e scopriamo il piacere di una lettura incalzante proprio un'ombra un fuggevole stato d'animo viene carpito proprio e assaporato spero spero da tutti noi grazie alla maestria di questo scrittore immenso che riesce così perché c'è lui il preponderante senso proprio della sacralità dell'uomo essa non viene mai tradita c'è questo senso proprio dell'umanità e come sacra anche quando viene dipinta in modo orribile o meschino Raskolnikov in Delitto e Castigo risponde all'imperativo del tutto è permesso ma l'azione politica estesa a tutta l'umanità può? Può fare altrettanto? è tutto permesso per la società? Per l'umanità? Essere nichilista e rimanere al di sopra quindi del bene e del male? L'uomo diventa un dio o una sorta di demiurgo detenendo poteri assoluti? un despota, un giustiziere? Secondo Dostoevsky qui non sono solo domande retoriche ma no, no non è così, lui si oppone a questo tipo di abiezione che uccide l'umanità consegnandola ai demoni infernali in senso evangelico della Genna ma nelle ombre, perché è sempre il senso manicheo, il bene e il male, non perdiamo di vista le luci e viceversa anche la complessità e il vuoto. E allora rintracciamo in Stravogin quella frammentazione quell'incapacità di cogliere che cosa realmente vuole. Lui è dissoluto, crolla e seguono delirio, suicidio, seguono in lui il degrado e si susseguono la perdita di personalità perché nessun uomo può ergersi come arbitro logico e morale del mondo né Raskolnikov abbiamo detto né nei Karamazov né Krilov. Nonostante la forte moralità e l'impetuoso intelletto di quest'ultimo, perché ricordiamo che Krilov, ho detto all'inizio del video, è una sorta di diogene, quindi c'è nella nella sua pazzia, nella sua follia qualcosa di saggio e come lo era questo filosofo classico e quindi in lui c'è anche questo elemento morale, questo elemento anche di impeto fortemente intellettuale che tocca, tocca l'estasi epilettica senza esserne affetto. Krilov, Dostoevsky sì, il principe Mishkin nell'Idiota sì, altri personaggi sì, ma Krilov tocca questa estasi senza esserlo. E non dimentichiamo come Dostoevsky fosse un assiduo lettore di giornali, ne leggeva all'incirca pare tre al giorno e da essi prendeva spunto nei suoi romanzi, lui era un divoratore di cronaca e perché questo? Non c'era un elemento morboso, almeno non sembra, ma perché questi fatti di cronaca, secondo lui, dietro a essi, agli eventi giudiziari, alla cronaca nera, in apparenza banali, si poteva scorgere come con una seconda vista balugini di realtà nascosti e illuminanti per tutta l'umanità. E lui, in qualche modo, li riprendeva, ne traeva spunto e poi li restituiva, sicuramente in modo molto, molto illuminante. Ecco che la storia contemporanea in lui si immergeva per poi però prenderne le distanze. E vediamo come questi nichilisti, socialisti, stanno nella storia, come il bene, il male, e lui, e lui dove sta? Lui sta nel mezzo, è come un direttore d'orchestra, proprio ineffabile questo vuoto e questa chiacchiera. Da una parte abbiamo intelletto, dall'altro abbiamo poesia e abbiamo anche questo elemento di mistero, di ineffabilità, di vuoto. E quindi ogni narrazione, avendo questi elementi, è profondamente, autenticamente umana, perché nell'uomo c'è un po' di tutto ciò. E' come la pietà, una pietà infinita, che scende sopra tutte le vittime, gli esseri umani. Lui sa bene, sa bene dove vive il dolore e sa altrettanto bene che laddove vive il dolore, vive anche la verità. Ed è questo che ci mostra. E allora noi leggiamo questo romanzo e ci chiediamo, appunto, dicevo, che cos'è il male oggi. E allora noi nei demoni troviamo questi uomini brillanti, dotati di intelligenza, di acume, che conducono vite vuote, insulse. C'è qualcosa di più grande che li richiama. Oppure, invece, al contrario, rimangono stritolati o sovrastati dalla paura, dall'inettitudine, dalla superficialità. Ancora una volta, luce e ombre, vacuità e grandezza. Ancora una volta, quindi, queste luci e ombre avvincono e al tempo stesso respingono. E l'essere umano si dibatte, si dibatte in questi dubbi insolubili, in cui un indifferenziato, proprio nebuloso, tra bene e male, fa sì che escano, ne fuori escano come da un cappello cilindro di un prestigiatore, dei personaggi fantastici. Come Stravogin, che tocca delle vette altissime mai raggiunte in letteratura, secondo la critica. E abbiamo questo senso del sacro nella umanità, che mai rinuncia alla fraternità, al senso di fraternità, di uguaglianza, e ci si richiama comunque più volte. E quindi non perdetevi, non perdetevi tutto ciò. Altrettanto non lasciatevi sfuggire, ve lo devo dire, le liti, le gelosie, i diverbi, i giochetti, tutti i giochetti di poteri, dialoghi, che rendono proprio il senso di personalità cangianti e abilità non comuni. Eppure proprio fanno del romanzo, in questo senso, un capolavoro, anche questi aspetti. E quindi ci chiediamo ancora una volta, allora esistono i grandi malvagi o i personaggi abietti dostoieschiani credono solo di esserlo? E qui ci risponde, citati, dicendo che, dice, quando abbiamo finito di leggere i demoni, abbiamo l'impressione che la nostra esperienza non sia ancora compiuta. Ci pare che non comprenderemo mai questo libro e un lungo strascico di inquietudine ci avvolge nella sua rete. Dostoevsky abita in ogni luogo del romanzo. Come un animale insidioso, pochissimi scrittori condividano questa onnipresenza. Tutti i personaggi, anche in più infini abietti, possono rivelare le idee e le intuizioni del loro creatore. Anche un brigante, un buffone, un nichilista o un frivolo liberale, come diceva uno dei suoi amici, egli si sdoppiava diventando qualsiasi persona, eccolo lì, completamente diverso da sé, e noi lo guardiamo trasformato. Poi si allontanava, faceva apparire le proprie idee più care in una luce grottesca e parodistica. E quindi, vedete, ora però basta parlare del romanzo e andiamo a conoscere Fedor Dostoevsky, uomo, proprio a partire, come vi dicevo, dalla sua esperienza in Siberia, che farà da spartiacque, proprio nel modo di scrivere, per lui proprio sembra, per chi ha letto anche molto di lui, si capisce subito ciò che ha scritto prima di quell'esperienza e dopo invece la condanna, dei lavori forzati, del contatto con gli assassini, con la pena di morte, sfiorata, ormai sfiorava la fucilazione, era lì, lì, è quello che ha scritto dopo tutto ciò. Anche gli attacchi epilettici probabilmente ebbero inizio in Siberia. E citate, racconta proprio la prima crisi epilettica, dice, nell'inverno 1850 ebbe la prima grande crisi di epilessia. Dolori improvvisi, perdita della coscienza, convulsioni del viso e delle gambe, schiuma alle labbra, polso rapidissimo. La crisi durò una quindicina di minuti. Nell'agosto 1858 ebbe quattro crisi, alcune durante il sonno. Ogni volta la memoria era cancellata, il cervello frantumato. Temeva di venire soffocato da uno spasmo, temeva che il mal caduco degenerasse in follia. E osservava in sé stesso l'abbattimento, l'umiliazione, la malinconia e la pesantezza che per settimane seguivano agli attacchi. Anni dopo, nell'Idiota, descrisse il lungo grido spaventoso che uscì dal petto del principe Mischkin, che sembrava che gridasse un altro essere umano, chiuso nel suo petto. Quindi, naturalmente, voi capite che c'era questo male, questo dolore molto forte, queste crisi. E inoltre, come Leopardi, lui conosceva la noia e la riteneva terribile. E per questo, forse, progettava continuamente nel futuro, voleva sempre creare un'opera che appartenesse a ciò che non esiste. Lui, solo, distrutto, ossessionato dalla solitudine e con questa paura della noia terribile, e in balia anche di una irrefrenabile, insaziabile chiacchiera, era un grande logorroico, non si sentiva mai compreso e scriveva di notte, proprio, posseduto dalla scrittura. E pare che lui non sia stato mai felice, fino a quando? Fino a quando? E qui abbiamo questa storia d'amore, molto commovente. Il 4 di ottobre 1866, non comparve lei. La dolce e forte Dostoievskaya, Anna, una stenografa che lo aiuta, proprio nella stesura del giocatore, e diventerà la sua seconda moglie, lasciandoci una testimonianza di vita e di amore inesauribili e costanti. Era una donna molto forte, molto fedele, che seppe riconoscere in lui la grandezza e seppe mantenersi salda, equilibrata, accanto a lui, e felice. Furono felici. Questa felicità da sempre attesa si realizzò. E per 15 anni, nonostante disgrazie, crisi, la perdita proprio anche di una figlia, rimase comunque questa coppia unita e salda. Lei aveva 20 anni e lui 44. tenendo conto che la testimonianza di Anna è quella di una donna innamorata che, anche alla morte di lui, non si risposerà mai. E alla domanda perché, perché nessun altro potrà mai essere come lui. E non esiste un uomo come lui e quindi rimane fedele anche dopo la morte di lui. Bene, e Anna proprio ci fornisce un ritratto davvero speciale, di profonda umanità. E io stessa, che lo conoscevo come scrittore, sapevo la sua storia, sono rimasta stupita, soprattutto per questo aspetto, devo dire, del vizio, del vizio, dell'ossessione del gioco. Che lui aveva, lui scrive il giocatore, ma era, diciamo, autobiografico lo spunto della storia. Certamente una fragilità di quest'uomo, però lui, mentre io credevo, erroneamente, che lui si fosse rovinato, in realtà lui, a causa della perdita di un fratello e il dover mantenere la famiglia e la moglie del fratello e il nipote, e il fratello lascia moltissimi debiti, quindi lui scopre il gioco perché spera, in qualche modo si illude, di potersi, è caduto, poverino, ecco lo risolleviamo, Dostoievski, spera di poter risollevarsi da queste problematiche economiche. e quindi lei rivaluta, diciamo, ai miei occhi almeno, certi aspetti anche di fragilità di questo uomo, di crisi esistenziale, di malattia, perché comunque sorretto da una forza interiore, fuori dal comune, da una saldezza e da un'integrità, comunque anche morali straordinarie, senza le quali non sarebbe riuscito a creare i romanzi di una tal portata. Spesso questi romanzi, anche qui vi voglio dire, scritti frettolosamente, proprio perché aveva questi problemi economici, doveva pubblicare assolutamente e quindi Anna racconta proprio di come lui dovesse scrivere in fretta e furia. Mi dico, ma chissà se non li avessi scritti in fretta e furia cosa sarebbero stati? Ecco, quindi davvero una grande capacità narrativa senza eguali. E quindi, come per Leopardi, anche per lui lo studio è matto e disperatissimo e infatti alla morte proprio del fratello sommerso dai debiti per uscire da proprio dall'impasse di questi debiti economici lui deve scrivere in modo matto e disperatissimo e purtroppo anche c'è questa malattia, questo demone o demone del gioco d'azzardo. Diciamo che peculiare nella dinamica di coppia Anna in certe situazioni in cui lo vedeva particolarmente prostrato temendo lei teme molto la crisi epilettica dovuta spesso provocata dall'agitazione da uno stato di agitazione di preoccupazione di alterazione dello stato nervoso e quindi lei onde evitare tutto ciò lo spingeva paradossalmente proprio a giocare per fargli riaffiorare un sorriso una speranza il buon umore e lui era un padre molto affettuoso si prendeva molta cura dei figli e quando proprio muore muore un figlio questo lascia davvero agghiacciati questa testimonianza ma non voglio sottrarvi a questo coinvolgimento che questo testo sicuramente vi provocherà questi 15 anni di vita di coppia vi accenno solo all'esilio volontario come lo chiama lei per ben quattro anni dove oltre a Baden e a Ginevra soggiorneranno anche in Italia addirittura anche a Bologna nella mia città e ancora vi accenno ai litigi perché lui era un geloso questa gelosia infondata lei non dava modo ma naturalmente era più giovane bastava anche solo che si intrattenesse a parlare in salotto con qualche giovincello che lui già si insospettiva si rabboiava non solo ma ancora vi segnalo diciamo perché mi ha profondamente commosso la preoccupazione di lei quando lui vende la pelliccia che naturalmente nel clima rigido della Russia vendere l'ultima pelliccia significava rischiare di un raffreddamento molto forte e di morire e quindi scoppia in lei dalla preoccupazione dettata dalla preoccupazione una crisi isterica in cui lui rimane diciamo impietrito e anche intenerito insieme e siccome io mi ci rivedo in questo aspetto che quando sono preoccupata molto preoccupata per il mio caro posso andare in escandescenze diciamo avere delle crisi se non isteriche quasi e allora questa cosa ha intenerito anche me parlavano tantissimo lui era piuttosto logorroico e siccome era anche un nottambulo parlavano anche fino alle 5 della mattina e c'è una complicità calore nei loro dialoghi e poi ricordo anche l'attività editoriale messa in piedi da lei per vendere alle librerie le copie dei romanzi di lui che si rivela qui non mi voglio troppo spoilerare però è importante dirlo molto redditizia fruttuosa anche dopo la morte dello scrittore ciò consentirà quindi anche ai figli una vita dignitosa e poi mi ha fatto molto ridere il momento in cui lui grande scrittore intelletto profondo e tormentato va alla ricerca prosaica di una mucca perché comunque questa dà il latte ai suoi figli un aneddoto paterno questo famoso scrittore che cerca la mucca per nutrire la prola tra stupore e tenerezza veramente ma chi era Dostoevsky uomo e scrittore e qui c'è da dire che sia da quello che si legge attraverso di lei e quello che si può dedurre anche da citati era comunque incomprensibile un enigma di ricchezza e di complessità forse ogni uomo poi in fondo è questo un enigma di verità e di dolore di poesia di melanconia di acume di solitudine di ossessione e lei comunque riuscì a comprenderne l'anima un'anima immensa di cui lui di cui lui era proprio molto molto ricco e citati dice non ho mai letto un diario così pieno d'amore e di adorazione un diario che non insegue il segreto di chi scrive ma il segreto di un altro e fin qui io proprio concordo eppure quel segreto sfuggì sempre Anna Grigorevna e su quest'ultima asserzione io invece nutro dei dubbi secondo me a lei non sfuggì il segreto lo carpi Dostoevsky rimane lontano irraggiungibile come Stravogin nei demoni il gioco e l'epilessia sono due tipi di possessioni demoniche l'inferno a Baden dove giocò fino alla mattina della partenza e qui abbiamo delle pagine di accorato a preoccupazione dove il vizio proprio questo vizio questa maledetta malattia emerge ma Dostoevsky trasformò l'istante prima della crisi il momento di euforica eccitazione prima della crisi di cui non lasciò testimonianza biografica scritta ma l'attribuì a Mishkin al principe Mishkin nell'idiota a Kirillov e tramutò quel fugace lasso di tempo in un mito in un mito doppio e tenebroso doppio e luminoso quindi anche come i miti più profondi un attimo di rivelazione di una rivelazione mistica metafisica che come diceva il principe Mishkin le sue sensazioni erano più acute e intense nel momento della crisi come una sorta di auto a percezione un sommo grado immediato un accordo con il mondo una trepidante ed estatica fusione con la sintesi della vita un'armonia eterna ma naturalmente non solo luce sempre anche tenebra e quindi che dirvi ancora spero di avervi fatto venire voglia di leggere un qualcosa di Dostoevsky e concludo richiamandomi al sogno che lui attraverso Anna racconta che è legata alla dichiarazione d'amore e rimaniamo con l'immagine di questa casetta in legno in cui scorse la luce brillante di una stella e questa stella era Anna Grigorevna Mishina sobria sensibile modesta e forte spero proprio di essere riuscita a rendere onore a Fedor e a Anna grazie e namaste alla prossima